Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragoneria e Paganessimo. Anche questa seconda parte della trasmissione si parleremo di un po' di cose, magari vi leggerò qualcosa di Kurt Habner oppure vi leggerò qualcosa dell'Inno Merico a Demetra, però il tema più importante sempre di questa trasmissione è appunto il rito religioso che teniamo sabato 20 marzo al tramonto, il punto di riferimento più che un orario è il tramonto presso il Bosco Sacro di Esolo e invito le persone che vengono a cercare di arrivare abbastanza presto nel pomeriggio cioè chiaramente non prestissimo, io alle 15 sarò là, comunque comincerò a lavorare per sistemare il posto però non comunque tardissimo, comunque tenersi in contatto telefonico con i loro referenti qualora tardassero perché dal posto di ingresso del Bosco Sacro a dove noi facciamo il rito ci sono circa un 400 metri di distanza per cui è facile che la persona arrivi magari e non trovi nessuno ad accoglierla se siamo tutti quanti ormai sul luogo a celebrare il rito col rito dell'equinozio di primavera noi scusate un attimo, devo mettervi su un attimo di musica perché sono state sono state lasciate le porte aperte, devo andare a chiuderle purtroppo è così abbiate un attimo di pazienza, continuo il discorso, faccio qualche secondo di musica in modo di andare a chiudere un po' le porte scusate un attimino solo non riesco neanche a far partire il cd no perché come al solito qualcosa che disturba la trasmissione portate un attimo di pazienza che vedo un attimo di riuscire vediamo un attimino se riesco a mettere su un cd vale un attimo a chiudere le porte rieccomi qua scusate ma c'era questo problema allora dobbiamo ripetere l'orario praticamente in cui ci troviamo sono circa il tramonto e avverto le persone di arrivare un po' prima diciamo così del tramonto cioè un po' prima in modo di tenersi in contatto con i referenti perché potremmo anche non esserci proviamo a vedere un attimo pronto? ciao dimmi ascolta vuoi dirti che Dio ti ama fa cagare no per cui continueremo il rito continueremo il rito prenderemo il rito e il colorito dell'equinozio d'autunno andiamo a concludere a concludere quello che è la costruzione della hieratica pagana c'è un discorso che fa Kurt Habner nel suo nel suo libro nel suo libro della verità del mito ad un certo punto Kurt Habner dice la religione cristiana è monoteista o almeno esige la preminenza assoluta di un Dio mentre il mito è politeistico questo Dio della religione cristiana è nel tempo stesso creatore del mondo il mito non può neppure porsi il problema di un tale creatore poiché nella sua struttura politeistica gli manca l'idea di un cosmo universale di un cosmo unitario del quale debba essere responsabile un solo Dio è vero che ad esempio Esiodo fa nascere tutto dal caos ma quest'ultimo è appunto ciò in cui all'inizio sono presenti molti elementi in modo disordinato e dal quale poi si dispiega la gamma del cosmo politeistico le dottrine mitiche sulla nascita del mondo sono per la maggior parte di genere simile esempio l'idea indiana dell'uovo cosmico quando non hanno addirittura come oggetto esclusivamente la nascita dell'ordinamento sociale del mondo inoltre mentre miticamente vi sono molti uomini nei quali un Dio diventa fenomeno visibile all'interno della religione cristiana esiste soltanto un uomo in generale soltanto un essere nel quale Dio si è incarnato ma con ciò viene al tempo stesso dato un rilievo assoluto a un periodo del tempo profano quello appunto nel quale visse quest'uomo mentre il mito politeistico non conosce una tale rilievo tanto più che in esso il sacro pervade sempre e dovunque l'elemento mortale e questo viene ricondotto a quello ma proprio per questo la religione cristiana non è come il mito anche una forma di spiegazione del mondo un sistema di esperienza bensì soltanto una guida alla vita giusta cioè alla vita con Dio infine lo abbiamo già detto il miracolo ha un'importanza fondamentale per la fede cristiana ma non per il mito ci si riferisce soprattutto al mito quando ci si riferisce soprattutto a questo cioè al miracolo quando lo si designa col termine di fede mentre l'uomo che pensava miticamente non aveva bisogno di essere esortato a una fede il mito era infatti per lui soltanto una forma dell'esperienza di tutti i giorni queste differenze decisive possono in parte essere generalizzate al rapporto di altre religioni universali con il mito diciamo dunque concludendo e riassumendo il mito e religione non sono la stessa cosa ma mentre il mito può essere separato dalla religione non esiste religione senza il mito per cui dalla qualità del mito distinguerete la religione che viene professata e questo è quanto ci afferma Kurt Habner pertanto cosa succede nel rito dell'equinozio di primavera nel rito dell'equinozio di primavera viene esaltato esattamente ciò che per il cristianesimo è orrore, è morte, distruzione e il cristianesimo ha un terrore folle della nascita ha un terrore folle degli individui ha un terrore folle che le persone siano in grado di prendere nella propria mano la responsabilità della propria esistenza e questo invece è ciò che avviene in primavera Persefone torna dall'Ade torna per rifiorire e per ritornare all'Ade e ricontinuare a rifiorire questa è una cosa che ha suscitato nel cristianesimo un odio profondo e viscerale vi ricordo che i cristiani fecero in modo che la gente desse d'assalto ad Eleusi e distrussero Eleusi nel modo più infame più squallido che si potesse pensare e anche di questo Voetila dovrà rispondere come delitto contro l'umanità perché vi ricordo che i delitti contro l'umanità non fanno mai in prescrizione e l'ultimo ierofante Nestorius l'ultimo ierofante di Eleusi dichiarò che il buio stava scendendo sopra la specie umana e fu l'ultimo momento l'ultimo sussulto diciamo così dell'ultimo ierofante di Eleusi ebbene per riuscire a tornare fuori dal buio e dall'orrore sono stati necessari 1600 anni di persone che hanno stretto i denti e i pugni e ricostruissero ciò che era andato perduto ma ciò che è andato perduto non sarà mai più ricostruito esattamente come prima però quello che noi stiamo facendo come federazione pagana e come persone è la rinascita delle tensioni la rinascita delle relazioni che hanno gli uomini col mondo ciò che il Dio dei cristiani odia nel maniera più spaventosa vi ricordate la Genesi l'uomo è diventato consapevole del bene e del male ora è diventato un Dio come noi facciamo che non prenda dall'albero della vita eterna né mangi per vivere in eterno pertanto il progetto del Dio dei cristiani è quello di assassinare gli esseri umani e questo è scritto sulla loro Bibbia ora oggi abbiamo parlato del rito delle quinostri di primavera abbiamo parlato della nascita e le trasmissioni precedenti abbiamo parlato degli inni che reciteremo alle quinostri di primavera magari ne parliamo anche questa sera questa sera invece parliamo delle modalità tecniche dell'esecuzione del rito prima delle modalità tecniche diciamo il discorso sul bosco sacro la religione pagano politeista di cui io sono uno dei responsabili anzi sono il responsabile diciamo così eletto in assemblea per tre anni ha fatto richiesta ha fatto una informativa non una richiesta ha fatto un'informativa a tutte le autorità sul bosco sacro chiedendo la protezione da parte delle autorità del bosco sacro per impedirne il vilipendio in data 30 maggio 2003 ai signori presidenti della regione veneto presidenti della provincia di venezia prefetto di venezia questore di venezia sindaco di jesolo carabinieri di jesolo polizia di jesolo viene mandata questa lettera questa informazione oggetto richiesta di protezione del luogo adibito al luogo di culto adibito al culto della religione pagana napoliteista denominato bosco sacro si ricorda i destinatari della sentenza corte costituzionale numero 329 del 1997 successive il sottoscritto Claudio Simeoni quale pontefice eletto rappresentante dell'associazione religiosa denominata federazione pagana e residente in Marghera venezia piazzale parmesan numero 8 comunico le signorie vostre che il bosco situato in via Cagamba settima attraversa numero 3b nel comune di Iesolo in provincia di Venezia e di proprietà del signor Franco Santin membro della stessa associazione religiosa federazione pagana viene adibito con delibera dalla prima assemblea di soci fondatori dell'associazione religiosa federazione pagana tenuta in marostica in data 7 marzo 2003 a luogo di culto per i riti religiosi pagani politeisti nei tempi e nei modi che tale associazione riterrà opportuni tale bosco assume quindi la dicitura di bosco sacro quale luogo adibito al culto e si invitano le autorità competenti ognuna per le proprie competenze a tutelarne la sacralità e l'integrità impedendone nel vilipendio il signor Franco Santini ha riconosciuto l'associazione religiosa federazione pagana come flamine in quanto costruttore custode e creatore del bosco sacro alla presente si allega l'atto costitutivo dell'associazione federazione pagana lo statuto dell'associazione federazione pagana e la relazione sintetica dell'assemblea dei soci fondatori firme per la federazione pagana Claudio Simeoni per la proprietà Franco Santini questo comunicato fu inviato alle autorità il 30 maggio 2003 da allora quel luogo è considerato bosco sacro ed è considerato ufficialmente come un luogo di culto della religione pagana politeista culti che vengono che vengono eseguiti al sostizio alle quinozzi meno che al sostizio d'inverno che essendo un culto estremamente particolare praticamente è di gioia di gioia di vivere e di vivere bene viene celebrato dovunque tanto dovunque si può celebrare la gioia dell'esistenza vengono celebrate in quei posti in questo momento tre riti l'equinozio di primavera sostizio d'estate e l'equinozio d'autunno questi sono i riti che in questo momento vengono celebrati al bosco sacro di Esalo quello che andiamo a celebrare sabato 20 marzo è la rita dell'equinozio di primavera abbiamo parlato degli inni che andiamo a recitare abbiamo parlato del senso e significato del culto ebbene parliamo anche del come il rito viene eseguito viene manifestato si inizia il rito con la scelta dei lettori degli inni gli inni sono sei chiaramente ci sono sei lettori degli inni cioè sei persone ognuna che leggerà un inno la seconda fase è l'accensione delle candele da parte di tutti i partecipanti cioè tutte le candele che stanno attorno al cerchio esterno del luogo in cui verrà fatto il rito verranno accese da parte di tutti i partecipanti quanti siano non lo so perché dipenderà quante ne verranno portate a quel punto comincerà il rito vero e proprio con il saluto di tutti e quattro i punti cardinali una persona evoca e chiede al mondo di presenziare il rito chiedendolo ai quattro punti cardinali terzo si procede all'accensione del fuoco due persone si dedicheranno ad accendere il fuoco quando il fuoco avrà preso inizierà inizierà il rito vero e proprio gettando le manciate di sale e di zucchero nel fuoco da parte di tutti i partecipanti naturalmente verranno prese da una bacinella che sarà preparata in precedenza a questo punto comincerà il cerchio comincerà il girare attorno al cerchio con musica musica molto forte perché si tratta di richiamare alla mente quella che è la danza dei cureti che protessero la nascita di Zeus dal tempo che voleva fagocitarlo e nello stesso tempo va anche un po' rappresentare tutti quei suoni tutti quei gridi di esistenza che vengono fatti da ogni soggetto che nasce quando si presenta davanti al mondo dopodiché fatto questo in tempi e modi del posto le persone che recitano l'inno faranno un cerchio ulteriore in mezzo al cerchio delle altre persone si avvicineranno al fuoco prenderanno un bastoncino e il primo bastoncino che si spegne si mette in una certa posizione a nord e tutti gli altri a mano a mano che si spegne un bastoncino alla sua sinistra a questo punto ci sarà la lettura degli inni in sequenza a mano a mano che una persona finisce passa ogni persona avrà una fascia diciamo così che la che la designerà la persona che legge l'inno avrà una fascia e a mano a mano che finisce di leggere l'inno prenderà il foglio con l'inno lo metterà nel fuoco e passerà la fascia o il nastro al successore al secondo lettore di inno questo andrà avanti per la lettura di tutti gli inni e l'ultima persona che legge l'inno getterà nel fuoco sia la fascia sia l'inno letto sia il foglio dell'inno a quel punto ci sarà la divisione del fuoco il fuoco verrà diviso in due colonne e verrà alimentato con dell'altra legna che era stata preparata a questo punto comincerà il rito del passaggio nel fuoco sarà un passaggio libero ognuno farà quello che vuole se qualcuno vuole saltare il fuoco salta il fuoco e non ha nessuna importanza praticamente il passaggio in mezzo ai fuochi in questo caso viene a simboleggiare la nascita la trasformazione della persona la trasformazione della persona in base alle sue decisioni a quel punto quando tutto sarà finito e il fuoco si sta abbassando cioè si sta per abbassare diciamo così per spegnere ci sarà il cerchio di chiusura con i suoni con i suoni nel cerchio di chiusura verrà fatto il saluto dei quattro punti cardinali e a quel punto dopo il saluto dei quattro punti cardinali il rito cessa un po' alla volta cioè praticamente i partecipanti al rito si staccheranno un po' alla volta dal cerchio e lasceranno dopodiché ci saranno lo svolgimento dei riti individuali quando è finiti i riti individuali o mano a mano che le persone finiscono i loro riti individuali si ricomincerà a raccogliere il tutto al lume delle torce e si porterà via queste comunque sono le modalità di esecuzione del rito dell'equinozio di primavera dette così hanno poco diciamo così hanno poco impatto però chi ha assistito chi ha partecipato ai nostri riti sa che la manifestazione del senso religioso del senso luminoso è estremamente forte e estremamente ampia tanto per riuscire a ricordare gli inni che verranno recitati io ve ne leggo uno che scelgo un attimino ed è un qualcosa che voi non sentirete da nessuna parte se non da noi vediamo un attimino quale faremo il regolino omerico a Pan Musa cantami il caro figlio di Hermes Bicorne dai piedi di Capra amante del frastuono che vaga per le valli boscuose in compagnia con le ninfi danzatrici e se amano percorre le cime delle rupi scoscese invocando Pan il dio dei Pasqui dai capelli lucenti orsuto che frequenta tutte le alture nevose e le cime dei monti e sentieri pietrosi si aggira in su e in giù per le fitte macchie ora è attratto dall'acqua e tranquilli ruscelli ora si arrampica su rocce inaccessibili salendo sulla cima più alta per sorvegliare le greggi spesso corre per le grandi montagne biancastre spesso attraverso le valli facendo strage e salvaggine grazie alla vista acuta solo al tramonto tornando da caccia intorno a sua zampogna una dolce melodia non lo vince nel canto l'uccello che a primavera affonde un lamento con voce di miele tra i fiori e le foglie allora si uniscono al suo canto le ninfe montane della limpida voce danzando con passi rapidi presso la fonte profonda e leccano il suono della vetta del monte il dio ora danza in tondo ora entra nel mezzo con rapidi passi e porta sul dorso una fulva pelle di lince e si esalta nel cuore a quel canto ritmato sul tenero prato dove il crocco e il giacinto doloroso si mescolano all'erba fiorendo in gran coppia cantano gli dei beati nel vasto limpo per esempio più di ogni altro esaltano il rapido Hermes dicendo come messaggero veloce per tutti gli dei e come arrivò nell'arcadia ricca di fonti madre di gregi dove c'è un tempio per lui il signore Cillenio lì pur essendo un dio pascolava le gregi di un mortale infatti ardeva in lui il desiderio struggente di unirsi in amore con la ricciuta figlia di Driope ottenne le nozze fiorenti ed esso nel palazzo partorì Hermes un figlio già subito strano a vedersi in bicorre dei piedi di capra rumoroso dal dolce sorriso la madre balzò in piedi e fuggì lasciando il bambino ebbe paura infatti quando vide il viso ferino e barbuto ma il rapido Hermes lo prese subito in braccio e l'accolse la gioia traboccava dal cuore del dio salì in fretta alle sedi degli immortali con il figlio volto in una folta pellice di una lepre montana si sedette vicino a Zeus e agli altri mortali e mostrò suo figlio tutti gli dei si rallegrarono in cuore e più di tutto il delirante Dionisio lo chiamarono Pan perché tutti avrà allegrato il cuore così ti saluto signore e ti placo col mio canto e io canterò te e un'altra canzone la canzone della mia vita e questo che sta per rinascere è ciò che gli antichi ci hanno lasciato ed è ciò che noi usiamo per costruire il futuro perché i principi i principi religiose i principi sociali il modo di vedere e di affrontare la vita che gli antichi ci hanno lasciato è un bene prezioso questo non significa che noi scoppiazzeremo ciò che non ci piace noi prenderemo ciò che ci piace e lo useremo per costruire il futuro e laddove il mito non ci regge noi i miti sapremo ricostruirli però voglio riportarvi un attimino l'attenzione al passo in cui Hermes per riuscire a corteggiare Driope lui accetta di fare il pastore accetta di pascolare le greci per un mortale ebbene questo passo che è proprio delle antiche religioni e non lo troverete assolutamente in nessuna in nessun testo né nella Bibbia né nei Vangeli ufficiali lo troverete soltanto nelle sciocchezze che vengono scritte a scopiazzatura dei miti antichi a scopiazzatura dei miti antichi noi lo troviamo anche a proposito dell'inno omerico a Demetra e in effetti visto che abbiamo un po' di tempo parleremo proprio occultare il fuoco alimentarsi dal fuoco nutrire il fuoco ricordo che nel paganesimo è il centro di ogni rito di ogni rito nel paganesimo c'è il fuoco il fuoco rappresenta un po' la coscienza rappresenta la contraddizione rappresenta la trasformazione il fuoco è tutto ciò che cambia tutto ciò che si modifica tutto ciò che va a modificare le cose e l'umana esistenza pertanto è il fuoco che ci determina ciò che noi siamo la nostra passione la nostra attenzione il nostro desiderio e il fuoco ha anche un'altra capacità cioè è una coscienza in sé è una consapevolezza il fuoco è il luminoso il fuoco è un numen il fuoco è un dio che arde non è importante se sia per pochi istanti o sia per tantissimo tempo il cuore della terra è un cuore di fuoco Elios è fuoco dentro di noi c'è il fuoco della vita c'è il calore c'è tutta la vita rappresentata dal fuoco e così la coscienza la consapevolezza le tensioni i desideri l'amore è tutto rappresentato come fiamme di fuoco che si muovono all'interno degli individui perché il fuoco rappresenta l'essenza del luminoso l'essenza del numen l'essenza del dio ebbene prendiamoci prendiamoci un attimino da dall'inno numerico a Demetra un pezzettino che andiamo a commentare ben presto giunsero alla casa di Celeo caro Zeus e vennero attraverso il portico laddove attendendole e la madre veneranda sedeva presso il pilastro del tetto saldamente costruito stringendo al petto l'infante fresco germoglio le fanciuglie a lei corsero e la dea varcò la soglia col capo toccò la volta e riempì il vestibolo di luce sovrumana rispetto e venerazione presero la donna e insieme pallido timore si alzò dal trono in onore della dea e la esortò a sedersi ma Demetra a portatrice di messi dai magnifici non vuole sedersi sul trono risplendente e ristette in silenzio abbassando i begli occhi finché l'operosa iambe ebbe disposto per lei un solido scabello gettandovi sopra una candida pelle la ella sedeva con le mani si tendeva il velo sul volto e per lungo tempo tacita e piena di tristezza stava immobile sul seggio né ad alcuno rivolgeva parola o gesto ma senza sorridere senza gustare cibi o bevande sedeva struggendosi per l'impianto della vita della figlia della vita sottile finché con i suoi motteggi l'operosa iambe scherzando continuamente indusse la dea veneranda a sorridere e a ridere e a rassenerare il suo cuore iambe a chi che anche in seguito fu cara all'animo della dea questo è un frammento è un pezzo diciamo così del lino omerico a Demetra che andiamo a commentare ed è occultare il fuoco alimentarsi dal fuoco nutrire il fuoco in questo pezzo troviamo l'affinità fra il comportamento dell'iniziato e il comportamento di Demetra Demetra ha raggiunto il suo obiettivo quella di essere invitata in quella casa lei si pone al servizio di quella casa non è arrivata per essere padrona della casa è un motivo ricorrente quello di chi ha molto potere di essere che si mette al servizio di chi non ha potere di essere oppure esercito una piccola parte di frazione di potere di essere in area anglosassone ci sono i folletti di bufica nel galles o bodac degli highlanders oppure per cambiare tradizione i geni delle lampade del medio oriente oppure ercole che pulisce le stalle o appollo condannato se tratta in questo caso di una punizione a servire un mortale abbiamo visto anche ermes a pascolare le greci è come se il potere di essere cercasse stimoli per continuare a crescere o nuove ragioni per esercitarsi in realtà il potere di essere cerca delle sfide cerca il suo piccolo tiranno che lo costringe a compattarsi e a fare dei salti qualitativi nel caso di Demetra il piccolo tiranno è dentro se stessa ed è quel furore e quella tristezza che la porterebbe se potesse ad imbracciare l'armi e a fare una strage sull'Olimpo questo furore e questa tristezza vengono bloccate dalla famiglia presso la quale Demetra ha deciso di servire è impossibile presentarsi all'Olimpo armata di spada per far pagare a Zeus la sua decisione perché danneggiare questi umani che sono così indifesi davanti al suo potere il tiranno che brucia dentro il cuore di Demetra viene fermato dalla pietassa di Demetra dalla sua attenzione per il mondo che la circonda ogni iniziato deve conoscere questo Ed Demetra rispetto per Cileo caro a Zeus ma caro anche a se stessa il potere di essere anche se mascherato risplende sempre quando un iniziato entra in un nuovo ambiente di persone queste lo osservano per stabilire dove collocarlo e il potere di essere sviluppato dalle persone riconosce il potere di essere dell'iniziato per contro il potere di avere riconosce il suo nemico il potere di avere che oggi vediamo espresso dal monoteismo agirà violentemente contro l'individuo che porta potere di essere l'unica difesa in caso di contrapposizione per chi porta il potere di essere è il gioco sul piano della ragione il potere di avere per essere accettato dagli esseri umani si traveste da potere di essere è re per volere di Dio non perché egli possieda esseri umani se il mascheramento del potere di essere attraverso la foglia controllata non è perfetto il potere di avere accusa l'iniziato di volerlo detronizzare e gli dichiarerà guerra vedi roghi per tante donne la perfezione del mascheramento di Demetra avviene quando lei richiama alla memoria il suo dolore per la perdita della figlia il dolore che Demetra chiama la mente offusca il suo potere di essere e annebbia la vista di chi la sta guardando infatti l'attenzione di chi la guarda è presa dal suo dolore e annebbiato rispetto alla sua luce impariamo dagli iniziati ad afferrare l'attenzione dello spettatore decidendo essi cosa vogliono mostrare e cosa vogliono far comprendere lo spettatore la verità se tanto la vuole se la vada a cercare col proprio potere di essere Metanira riconosce il potere di essere della nuova avvenuta e cede il suo posto ma la nuova avvenuta non è arrivata per privare lei di qualche cosa ma per affiancare lei in qualche cosa non è venuta per imporsi ma per camminare assieme per questo Demetra rifiuta l'offerta del posto di Metanira però Demetra non può rifiutare l'offerta di un altro iniziato infatti è Iambe che le prepara un posto a sedere è Iambe che riconosce la qualità del suo potere di essere sotto il suo dolore ed è Iambe che le offre un sollievo dal suo dolore è una cosa che nessun iniziato può rifiutare infatti gli ha offerto un frammento del suo potere di essere capace di alleviare la solitudine del dolore che Demetra chiamava continuamente alla mente si tratta del dolore di chi percorre una strada di conoscenza che nel caso di Demetra è raffigurato con la perdita della figlia nel linguaggio dell'iniziato suonerebbe come chi ti può dare una mano quando da solo combatti contro tutti e contro tutto per la riaffermazione di principi di giustizia che le persone qualunque nemmeno vedono forse non sapremmo mai se l'atteggiamento di Iambe fosse quello espresso del potere di un viaggiatore che vede un suo simile o soltanto quello di chi percepisce le tensioni del mondo ed agisse in pietas davanti a ad esse l'unica cosa che possiamo dedurre è che Iambe fosse un iniziato ecco questo è il commento al frammento dell'inno omerico a Demetra ricordo che questi inni omerici sono sono giunti praticamente tagliati sono giunti a frammenti ma sono antichissimi e vengono scritti quando ancora vengono scritti vengono sì diciamo scritti quando la parola scritta praticamente si iniziava in quel momento ad usare ma in particolar modo quando la parola scritta stava diventando appannaggio appannaggio dei filosofi ebbene in quel momento i cosiddetti poeti quelli che vengono chiamati poeti scrivono le storie le storie che si cantavano le storie che si raccontavano il mito quel mito che viene scritto in quel modo rappresenta quello che è la conoscenza degli uomini antichi cioè il loro modo di affrontare la vita il loro modo di individuare quello che è il luminoso del mondo e in quel momento siamo attorno al circa il 600 a.C. esiste avviene una vera e propria rivoluzione in quello che è la concezione la concezione mentale degli uomini comincia a nascere la filosofia e praticamente con l'arrivo della filosofia non c'è più la molteplicità dell'esistente l'esistenza non è più molteplice ma si tende all'uno soltanto che la filosofia fa un errore fondamentale cioè non comprende cosa sia il minimo comune denominatore dell'esistente cosa sia l'uno cosa sia la base di tutto ciò che esiste e allora a seconda dei concetti soggettivi con cui i filosofi accreditavano questo o quell'elemento abbiamo degli sviluppi diversi della filosofia ma la filosofia appartiene al pensato della ragione non appartiene alla visione degli iniziati mentre invece vedremo come il mito entra nella struttura religiosa e come la struttura religiosa riesce a mantenere compatto il mito in quanto capacità di formazione di formare una relazione fra l'uomo e il mondo cioè fra l'uomo fra il luminoso il numen il lato divino che c'è nell'essere umano in ogni singolo essere umano quello che appunto il dio dei cristiani vuole ammazzare che non deve percorre un sentiero di eternità ma deve ammazzarli perché ha necessità di ammazzare tutti gli uomini cioè impedirli di trasformare nella morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso ebbene il mito va a costruire la relazione fra il numen degli esseri umani della capacità divina del singolo essere umano e i numen dei soggetti del mondo cioè di tutto ciò che ci circonda il mondo ciò che separa l'essere umano del mondo è la sua incapacità di ascoltare le voci questa incapacità viene costruita nel corso di generazioni finché alla sua esplosione nella distruzione quella che è l'uomo cioè nella nascita del cristianesimo il cristianesimo rappresenta quanto di più perverso infame e inumano esiste all'interno degli esseri umani il cristianesimo è l'organizzazione più feroce che l'umanità abbia mai assistito nel giro di milioni milioni e milioni di anni non esiste niente di più perverso che sia avvenuto io non so se ci siano delle perversioni mentali che vanno oltre il cristianesimo ma non credo proprio bene e questo è l'inno omerico ad emetra nella nella rito che andiamo a tenere sabato 20 marzo presso il bosco sacro di Jesu c'è un'altra nascita cioè c'è una nascita che era attesa ormai da molti anni in quel luogo noi tenemmo un rito credo che fosse l'anno 2000 nel 2000 tenemmo un rito e in quel luogo nacque la prima coscienza la prima consapevolezza dopodiché tutto si è interrotto ha avuto necessità che passassero tutta una serie di anni finché non abbiamo ripreso sistematicamente la costruzione dei miti del paganesimo politeista cioè abbiamo preso in mano la costruzione del futuro dallo scorso anno abbiamo iniziato il ciclo cioè già c'era la Deuotio che andava avanti da otto anni ma dallo scorso anno abbiamo cominciato il ciclo sistematico della costruzione della ritualità pagana politeista una ritualità pagana politeista che sta definendo quelli che sono le modalità rituali del paganesimo per modalità rituali del paganesimo torno a ripetere ancora dalla prima trasmissione perché sono i concetti più importanti e significa che nei riti che noi facciamo evochiamo sì il mondo ma lo evochiamo attraverso i principi attraverso il nostro modo di vedere il mondo attraverso la visione della vita che hanno i pagani politeisti cioè nel fare i riti noi ribadiamo i principi morali i principi etici i principi sociali i principi emozionali che noi abbiamo all'interno della nostra rappresentazione religiosa per cui il rito non è soltanto un girare attorno al fuoco il rito è l'esposizione della struttura emozionale dei partecipanti al fuoco attraverso la manifestazione di principi fondamentali nella costruzione della religione pagana politeista questo è il rito cioè una manifestazione religiosa collettiva in cui i partecipanti mettono se stessi la propria soggettività il proprio modo di vedere la vita e questo non glielo toglie nessuno però hanno degli elementi comuni attraverso i quali affrontare l'esistenza e questo si può fare soltanto con i riti collettivi in questo momento siamo io e Francesco che stiamo lavorando per costruire questa struttura religiosa che diventa una struttura ieratica perché dall'inizio dalla base che viene posta e dopo viene sviluppato ulteriormente quelli che sono i principi i modi di rappresentazione i modi anche per mettere insieme le persone per costruire le assonanze per chiamare gli dei per manifestare la propria struttura emotiva per sviluppare la propria capacità intuitiva per sviluppare la propria capacità magica per afferrare le condizioni del mondo le varie candele che si presentano nel corso della nostra esistenza però chiaramente questa struttura ieratica che andiamo a costruire non è una struttura definitiva ma appartiene agli individui che si presentano e che manifestano il rito pertanto non si potrà mai dire questo è giusto o questo non è giusto nel paganesimo ma si potrà dire queste persone che hanno fatto questa cosa è giusta o queste persone che hanno fatto questa cosa non è giusta perché i principi che noi andiamo ad esporre nei nostri riti sono esposti dalle persone che partecipano ai riti e che vanno a costruire il paganesimo chi non partecipa ai riti non sviluppa principi non sviluppa non manifesta se stesso e pertanto anche se lui avesse una visione migliore della nostra avesse delle cose migliori delle nostre le sue cose per noi è come se non esistessero pertanto solo le persone che partecipano ai riti manifestano quel tipo di principi pertanto anche altre persone che non partecipano ai riti possono dire io ho gli stessi principi però i principi che vengono manifestati all'interno dei riti le modalità con cui le persone costruiscono le relazioni col mondo le emozioni che esercitano nel chiamare gli dèi affinché li affiancano il loro modo di affrontare la vita le loro passioni i loro desideri sono quelli che sono alla base per la costruzione del futuro questo che è ora è mattone fondamentale nella costruzione del futuro del paganismo politeista e anche se voi troverete in Italia molte persone o molti gruppi che si dichiarano pagani in realtà quello che sta avvenendo qui è effettivamente una possibilità per il futuro di costruire se stesso nello stesso tempo è una possibilità per tutti i partecipanti di modificare il loro modo di affrontare la vita il loro modo di guardare il mondo il loro modo di considerare l'esistenza naturalmente ognuno di noi fa quello che può né più né meno senza infamia e senza gloria cioè il nostro amore per la vita la nostra passione il nostro desiderio la nostra capacità di chiamare le idee ad affiancarci che noi mettiamo in campo e tutto questo sarà per marzo il 20 marzo verso il tramonto presso il bosco sacro di Jesolo bene per oggi questo è tutto allora mi preparo un attimino di rassegna stampa qualche notizia di stampa che ho per le mani e se qualcuno volesse telefonare vi ricordo che il numero di telefono di radiogamma è 049 700 700 e 049 700 838 andiamo avanti vediamo un attimo pronto attenti al disagio dei bimbi cambiare il futuro si può ma questo ve l'ho già detto in realtà questo è all'interno di tutto quello che è il nostro lavoro del crogiolo dello stragone il crogiolo dello stragone ha la capacità di individuare e di toccare tutti quegli elementi che sono propri delle persone mentre vanno ad affrontare la vita vediamo un attimino c'è qualcosa che sta nascendo in maniera molto grossa voi sapete che questa estate ci saranno le olimpiadi e le olimpiadi si terranno in grecia lo spirito olimpico viaggio ad atene che si prepara per i giochi e sono degli articoli di frau uno dei quali è uscito il primo marzo del 2004 bene le olimpiadi che stanno avvenendo in grecia avranno tutte il carattere dei giochi antichi e non avranno niente di quei 1600 anni di orrore cristiano che è stato lasciato nel mezzo si ritornerà all'antico spirito tant'è che tanto per farvi un esempio l'accensione della fiaccola di olimpia viene fatta in ciò che resta del tempio di era ad olimpia cioè del tempio dell'essere natura ad olimpia e viene accesa attraverso un specchio concavo l'accensione pertanto della fiaccola di era riprende quello che è un antichissimo rito religioso al punto tale che durante le olimpiadi antiche parteciparono tutte quelle città che erano ammesse agli olimpiadi e quelle città cioè quelli stati in pratica città-stato che sottoscrivevano un patto un patto di vita un patto di non belligeranza un patto di sospendere ogni guerra mentre c'erano le olimpiadi ed effettivamente allora l'importante era partecipare e non vincere era importante rappresentare la propria città essere andati agli olimpiadi era importante vincere la corona di alloro ma era importante partecipare e non vincere vi ricordo che l'odio cristiano per le olimpiadi fu di una tale ferocia che le olimpiadi vennero spazzate via proprio per l'odio che i cristiani avevano per il corpo umano per la rappresentazione della vita per il modo di vivere per il piacere della vita dovevano costruire miserie esattamente come hanno distrutto Eleusi non credo che nel cristianesimo ci sia nulla che vada a costruire qualcosa in favore degli uomini c'è soltanto la storia ci ha rappresentato soltanto orrore morte e distruzione ebbene quest'anno avremo ad Olimpia avremo ad Olimpia la rappresentazione delle olimpiadi la gente di Atene ha sopportato otto anni di polvere caos per la metropolitana ma ha retto bene è stata quasi un gioco di appartenenza racconta oggi Nicolás Crist Stampolidis direttore del museo Gaulandris di Atene e docente di archeologia creta la sua isola gli scavi hanno regalato agli atenesi sorprese conferme nuove scoperte e 30.000 reperti 150 i più interessanti sono poi diventati la nostra mostra la città sotto la città dell'expo resta un bel catalogo di 414 pagine oggetti neolitici micenei del XVII secolo a.C. statue di ogni periodo piccoli capolavori protogeometrici busti bronzi ritratti strumenti cornici doriche tesoretti di monete il disegno delle prime mura della città lucerne mille ceramiche di mille tipi roba romana altra roba del periodo di Costantino il professore per il ventre di Atene e delle sue antiche novità ormai possiede un doppio sguardo con una super vista che buca i secoli c'erano cascatelle dei fiumi qui al centro a Sintagoma dove ora il palazzo del Parlamento qua proprio qui dietro il nostro museo c'era il liceo di Aristotele un tunnel e un reticolo di tubi di terracotta a incastro portavano acqua un po' ovunque una commovente tomba per un cagnolino una fossa comune con i suoi 150 corpi ammassati studiata la cronologia ci ha riconfermato i racconti di Tucidide sulla grande peste dei tempi di Pericle praticamente per ricostruire la città per fare in modo che la città sia tale per ospitare i giochi olimpici e gli atenesi hanno costruito metropolitani hanno lavorato sotto la città e hanno praticamente si sono costruiti un altro paio di musei con tutto quello che hanno trovato sotto la Grecia è un po' come l'Italia dovunque scavi trovi un ciotolato trovi una traccia romana una traccia etrusca una traccia di qualcosa spesso le sovraintendenze sono costrette ad accorrere sui posti fanno un disegno di quello che trovano tengono la documentazione poi naturalmente coprono il tutto perché spesso non è di grandissimo valore ma è comunque un valore un ricordo una registrazione di una situazione storica e penso che sia qui in Veneto come in tutta Italia effettivamente non c'è un posto dove non ci sia stata storia e dove non ci sia stata qualcosa figuriamoci poi ad Atene o nel Peloporneso penso che non ci sia un posto dove qualcosa non ci sia io ho dato un'occhiata a Pausania sull'Arcadia beh è un qualcosa effettivamente di incredibile veramente bene oltre a questo un saggio di un economista che ci interessa relativamente poco vediamo un attimino cosa abbiamo ancora dolore soffriamo come chi amiamo è sempre stato un problema quello di riuscire a capire a capire la compassione cioè il vivere la stessa passione la passione delle stesse tensioni stessi bisogni oppure anche lo stesso dolore della stessa gioia di un altro e la scienza ha dimostrato che la capacità di soggettivare ciò che sono le tensioni del mondo è una cosa reale cioè in pratica si collegano delle aree cerebrali si collegano dei neuroni si accendono delle zone del cervello quando si ha la stessa si vive delle stesse tensioni di un proprio amico della propria amante del mondo in cui si vive se una persona a noi cara sta male anche noi soffriamo può sembrare una banalità ma adesso è stata dimostrata scientificamente infatti in base ai risultati di una ricerca condotta all'Universe College di Londra quando assistiamo al dolore di una persona a noi vicina nel nostro cervello si attivano l'insulina e la corteccia cingolata anteriore le stesse zone che entrano in gioco se a provare dolore siamo proprio noi è la prova che la compartecipazione al dolore per cui anche la gioia la passione la tensione altrui non è solo emotiva ma viene documentata dalla risonanza magnetica praticamente non fanno altro che provare ciò che la stregoneria sapeva da sempre bene io chiudo qui la trasmissione di magia stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo giovedì prossimo ci sarà solo Francesco io non ci sarò chiaramente mi sono dovuto attrezzare per organizzare il rito per organizzare il rito di Jesolo e per le persone che vengono al rito di Jesolo beh arrivederci il giorno 20 verso il tramonto a Jesolo presso il Bosco Sacro ciao a tutti e a risentirci il prossimo giovedì ancora ciao ciao